Cannella ha lasciato in eredità una grande passione. Lei oggi ha detto che bisogna rendere i cibi dietetici edonistici. Cosa vuol dire? Che devono anche essere buoni da mangiare, perché la nutrizione è un aspetto, però il mangiare è uno di quei classici momenti della vita umana che non si riduce alla pura fisiologia. C'era un mio amico spagnolo che diceva che l'uomo ha scoperto la cucina quando si è accorto che la carne cotta era più buona della carne crude, ha scoperto la gastronomia quando ha capito che salata era ancora più buona. Quindi l'uomo è un animale gastronomico, se mi si consente il termine, perché non mangia solo per nutrirsi. Ci sono aspetti emotivi, psicologici, culturali, sociali che coinvolgono il mangiare. Carlo Cannelli era perfettamente consapevole di tutto questo, non soltanto a livello personale ed umano, ma voleva anche promuovere questa immagine del cibo e della convivialità come momento sociale. Io penso che questo sia rimasto uno dei suoi insegnamenti più importanti, perché è un biochimico che si interessa anche di questi aspetti e senz'altro da seguire.